Qui è la zona riciclo, questo era il vecchio cesto del gatto che è diventato due cesti del gatto e questo il vecchio asse da stilo è diventato il portasemenze esatto con dei bellissimi pomodorini e anche qualche semente di col diretti dell'expo dell'anno scorso quindi fare l'orto e anche liberarsi delle cose vecchie di casa se possono essere utili Cos'erano le simone quelle lì? Il puff del gatto Il gatto? Eh sì, il puff del gatto, non facciamo pubblicità ma sono dell'IKEA, sono anche gomodi